Ciao a tutti, sono Isaac e siamo qui su Half-Life 2, episodio 2 Per andare a prendere una cosa, a prendere questa In pratica ci siamo trovati nel bel mezzo del cammin di nostra vita No, ci siamo trovati davanti a uno di quei guarda Lui è un rilevatore di estratto di larve Quindi sa che dobbiamo andare da questa parte Comunque ci eravamo trovati davanti a uno di quei guardiani delle larve Che è una roba pazzescamente enorme Però, cioè non è che è pazzescamente enorme ma è preoccupante più che altro Sembra uno di quelli guardie di formica leone Che si trovava in Half-Life 2 e anche nell'episodio 1 Sto dando che questo qui era totalmente fosforescente Allora Ehm, qui abbiamo, abbiamo, abbiamo niente Ehm Allora Niente Ah, bene Però Sì ma, io lo faccio a piedi dopo Però, cioè Ma ero a tre metri dall'uscita Perché adesso è cinquanta chilometri più in alto Comunque Come scendiamo? Guarda, ti faccio vedere subito È una cosa che so fare ormai da tanto tempo No Devo andare La guardiana Ehm Devo andare di qua Non ho capito, mi devo buttare giù Ok Qualcuno di voi ha capito cosa dovevo fare Allora Seriamente, dai, abbiamo Mi devo portare un barile Allora Allora Oh Ok Ma Eh ok Qui salta per aria la La cosa Ma quindi Ah Devo passare di qua Eh no Non mi fa passare Aspetta Ah ecco Manca una pala Di sicuro Eccola lì Eccola lì Dai Gira 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 Eccola qui Aspettate ancora un attimo E E Eccola qua Perfetto Genio Isaac Genio Gordon Colpiscono ancora Allora Andiamo di qua Niente più larve Ah eccone una Larva Sola Soletta Destinata a morire Ah no Qui ce ne sono altre due Oh mio dio Via questa Ok Qui non c'è nada Niente Ok Scendiamo Olè 222 Su 333 Manca un terzo Ancora di larve Vai via Oh mio dio Wow Ne avevo mancata una Per fortuna Si è suicidata In qualche modo Allora Oh Qui c'è qualcosa Andiamo a vedere No Niente Andiamo giù Cosa c'è qui No 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 Ok Vediamo Di qui Qui c'è qualcuno No Mi sento una lara Con 2000 minuti Di ossigeno No ma Aspetta Muoio Ok Allora E uno Due colpi Bastano No Ah Sottacco non funziona Ah si che Bastano Due colpi Cioè perché quella Non è morta Allora E una E una Due Ok Mancheranno Un centinaio di larva Ancora però Vabbè Allora Tutto mi facciamo prendere E' molto più facile Ucciderle da vicino Poi ci facciamo anche Un bel volo Wow Che cosa sono sti cosi Alveari Olè E su di qua Ascensori Proprio Ok Andiamo di qua Ehi tu Preparati a morire No Tipo No Lasciamo stare Ehi Ti vengo a prendere No Non ci arrivo Ok Ora si Di qua Ok Uh Qui cambia lo sfondo Diventa Diventa più Non so che Oh mio dio Che schifo Ma io mi chiedo Dove Dove siamo Cioè Dove siamo Ok Double kill Andiamo qui Ancora Oh mio dio Oh mio dio Cosa sono sti cosi Boh Certo che è veramente strana sta cosa però Allora Andiamo a vedere di qua Ciao Ce n'è un altro Di quei Cosi E lo fece esplodere Ah Abbiamo fatto il giro Perfetto Cos'è che ci ha detto Di uccidere la La guardiana Va bene Allora Andiamo Oh mio dio Oh mio dio Aiuto 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 Dove andiamo Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Ho preso un colpo Andiamo ad ucciderlo Quel cosa Con calma Ma no Dai andiamo Oh mio dio No dove vai Ti ho tirato una granata Facciamo che sia morto Dai Oh Ce n'è un altro Ma porca miseria Perché devono apparire così Ok Riesciamo a raggiungere quel posto lì Oh no Eh No Non ci arriviamo Neanche morti Andiamo di qua Oh no Non arrivo Sembra tanto Quando Su crash Ero in seguiti Dalla roccia Dal masso Enorme Sembra Che dobbiamo Nasconderci ogni volta Prima che arrivi Dove sei Mi fa stra paura Quando arriva Con Con quel suono Porca miseria Non so se riuscirò a continuare a giocare Ciao E ritorna Non dimentico niente No Sta ritornando Aiuto Oh mio dio Qui c'abbiamo un'altra larva Oh mio dio Oh Arriva Aiuto Aiuto Non so se se la farò a giocare Andiamo via Dove è sparito? Oh Ritorna Ah Aiuto Aiuto Inseguimenti epici Dentro il canale Veloce Aia Oh mio dio È epico Adesso ho anche paura Di aver Dimenticato qualcosa Però chi se ne frega Corriamo Oh no Ritorna Qua dentro Qua dentro Aiuto Intanto C'ho sempre da Ammazzare il maggior numero di Larve Possibili E so che ammazzare larve Larve Aiuto Ho preso un tremolo Pensavo che Pensavo che Oh mamma mia Aiuto Aiutatemi Io non ce la faccio A continuare Oddio quando Spaccati 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 Oh no Sta arrivando No da questa parte No ho sbagliato No arriva Oh no Non arriva più Perfetto Sembra un'arena Credo che qui dovrò affrontarlo Speriamo di doverlo affrontare Almeno Non Non dobbiamo più Oh Un generatore Sì Già fatto Ok Mi chiedo quante larve Mi manchino ancora Ah Via Muori Muori Ok Allora Lì qua no Lì non c'è niente Sto Cercando di uccidere Le ultime larve Perché so che Questa dovrebbe essere Una delle parti finali In questo Posto Stai venendo giù? Aspetta Andiamo Ad accendere L'ascensore Che mi pare Di non averlo fatto No Ehi Che cavolo Non si accende Cosa di me ne manca? Ah Guarda qui Mi stavo dimenticando Questa parte Ah Ah No 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 Ok Sto qua cammina in giro Senza motivo Allora E uno E una due Morirono E furono sepolti No Furono sepolti Un corno Allora Proviamo di qua Ancora Ce ne sono Quante cavolo Ne mancano Ancora E una Uno E una Speriamo Siano le ultime Cioè A parte che si In quest'ultima parte Ne ho ammazzate Un sacco Questa cosa esplode? No E vai Festa della pignata No è quello Un attimo che controllo Allora Festa della pignata Ehi Ehi Via Via Cos'è questo? Trove rompi ogni bozzolo Ah Ogni bozzolo Quindi Ogni bo Ah Ok Quindi dovrebbe essere questo l'ultimo Il resto dovrebbe Cioè quindi siamo alla fine Più o meno di questa parte Dentro Però non trovo le larve Forse ne avrò dimenticate Uno o due Correndo con un pazzo disperato Mi sa di sì Comunque andiamo di qua Ah no Eccoli qua una Speriamo sia l'ultima Dai Speriamo che tu sia l'ultima Ah no Ce ne sono anche di qua Ah no Qui devo far Venire giù Il vortigaunt Però non so come fare Aiutatemi Allora Che cavolo vuol dire questa Devo andare di qua? No Cosa vuol dire? Ah Devo Premerlo Ah no C'è Un ingranaggio che manca Ho capito Allora Oh Un ingranaggio che Non volevo far niente Allora Un ingranaggio che manca Eccolo qui Ehi Ehi No 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 Ehi Non portarmelo via È mio L'ho trovato io Adesso dove è finito Ehi Dove 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 Ah eccolo là Ole Ok E ora Accendiamo l'ascensore Io scendo Lol Allora Wow Cosa sono un cane Eh A parte che su Byshock Si sono un cane Denti di latto Sono Qui Sono Ovvio Eh Di qua eh Ecco Bravo Dai Voglio andare ad uccidere le mie ultime larve Dai Le ultime larve Vai Il problema è che là dentro c'è una specie di Mostro Sì L'hai già visto E Mi ha inseguito un po' Quindi Nel caso dovesse seguirmi ancora Pensaci te Ok Oh mio dio Lol Ah Non farmi cadere te Mamma mia Razza di posto Bene Quindi Oh mio dio Cos'è sta Roma Dovevo andare a prenderne altri Oh mio dio Oh mio dio Ok Andiamo Non Ci scommetto mille euro Che adesso succederà qualcosa di brutto È ovvio Ma è ovvio 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 Beh veloce Prima che succeda qualcosa Andiamo su 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 Non c'è un pulse Come? Ah ecco di qua Quando? 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 Quando avrà caricato? proprio ah caricamenti stupidi proprio diamine, oh la quando? quando? no mettetevi qua di scooter salvatela diamine che deficienti cosa devo fare? what? che cavolo sta succedendo? oh mio dio cosa sta succedendo? nooo non interrompere adesso cosa vuoi? se è? I acted in the face of objections that she was a mere child and of no practical use to anyone. I have learned to ignore such naysayers when... quelling them? Was out of the question. Still, I am not one to squander my investments. And I remain confident she was worth far more than the initial appraisal. That's why I must now extract from you some small repayment owed for your own survival. Kaza! See her safely to White Forest, Dr. Freeman. I wish I could do more than keep an eye on you. But I have agreed to abide by certain restrictions. Now, listen carefully, my dear. When you see your... father... Relay these words. Prepare for unforeseen consequences. What? Oh my God. Che cavolo è successo? Non c'è capito tanto. Dove sono gli altri due qua? Oh... Oh my God. I thought... I thought for sure I was dead. I was dead. I was killed. I was killed. I was killed. I was killed. So that's what it was. We were killed and destroyed by the circularity. And yet it was a free man who retrieved her fortescence. Yeah, that's Gordon. How long have I been out? A matter of hours. Di ore? Ma... Ma io ci ho giocato appena un'ora sto gioco. Diamine. Come diamine fa ad essere ore? Boh. Ah, davvero? No fear. We will put you on the right road. Now, I'm gonna die. Ma... Ma... Chi è sto tizio? Ah, vabbè, lasciamo stare. I don't know what you did. But I have a feeling that I'm lucky to be here. Come then. I will get you on the path to White Forest. Come on, Gordon. We will continue our hunting for... Ok, ma... Ho dimenticato una larva. Porca miseria. Ciao. Ah, ecco io dove eravate. Be adequate. What the hell does that mean? I don't know. Sounds like something the forest would say. Doll. Allora. Qui ci sarà di sicuro un caricamento. No. Un'altra miniera. I think I can walk on my own now. Let me give it a shot. Sì. Adesso sa camminare. Yeah. Stiff, but... I think I'm okay. Ok. Va bene. Non ho ne ancora capito cosa sia sta Waxsta, però... Chi se ne frega. Comunque. Spero che questo video vi sia piaciuto. Tralalalalala e varie cose. Ciao. Perché mi guardano tutti? Grazie. Questo è tutto. Solo. Ai, 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 ai... Boh, hai risuscitato una tizia, ma... 15... Va bene, ok. Se ne frega. Ci vediamo alla prossima. Ciao. No, 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 ci mancava pure il tizio adesso. Era un guardia. Chiunque si deve fare qualcosa per bollirla. Il guardia si è in grado, contro il tizio dell'extra. Se si cercherà per evitare il nostro progetto, non avremo più scoperta da maturlo. Si tracasse con gli uomini? Oh, non mi sembra che sono fulento. Ok, ci vediamo alla prossima. Ciao, e alla prossima. Grazie a tutti.